Siamo a Grotta Mare, precisamente a nord della foce Tessino, qui dove l'erosione marina causata dalla mareggiata della notte tra il 12 e il 13 novembre è stata più forte. Come potete vedere ci sono appunto i segni dell'erosione marina ben visibili, tutta l'area è stata transennata, è inaccessibile ai cittadini. Qui ci sono giochi per bambini, è un'area molto frequentata specialmente nella bella stagione ma anche nelle giornate soleggiate, vedete le panchine al momento inaccessibili perché l'erosione è stata molto forte e ben visibile. Questo piccolo salto è di un'altezza di circa un metro e mezzo quindi al momento la situazione è da valutare e ovviamente si spera che il mare almeno per il momento non crei più altri problemi e l'area possa essere posta in sicurezza.